Come è normale che avvenga e come invece non è più tanto consueto. La questione della sovranità. Chi ha qualche anno come me sa che praticamente non faceva parte del discorso pubblico. Ha fatto parte del discorso pubblico quando si trattò di far entrare l'Italia nella Nato. Figuriamoci. Da allora in poi, non ero ancora Nato nel 49, stavo per nascere. Da allora in poi tutto il dibattito politico italiano non ha mai coinvolto la parola sovranità. Si diceva di tutto, ma certamente non si tirava in ballo la sovranità. Da un po' di anni è tornata apparentemente al centro delle questioni, poi non lo è. Ma vediamo di capirci. Sovranità. Se fosse, come sostengono molti media mainstream, se sovranità fosse sinonimo praticamente di fascismo, avremmo un curioso problema, cioè che la nostra Costituzione comincerebbe parlando bene della sovranità, dicendo che essa appartiene al popolo. Sarebbe come dire il fascismo appartiene al popolo. L'intolleranza, la xenofobia. Evidentemente il significato della parola sovranità non è fascismo, intolleranza, xenofobia. Difficilmente, altrimenti, verrebbe messa così in alto nella gerarchia costituzionale. Articolo 1, secondo com. Non è facilissimo definire sovranità. Perché è un concetto che si muove fra molti ambiti. Perché è un concetto che ha a che fare con l'essenza stessa della politica, che è qualche cosa di complicato. Primo avvertimento. Sovranità è, come termine, ma anche come suo significato, qualche cosa di assolutamente soltanto moderno. Esiste la parola ed esistono i contenuti proprio perché la politica moderna non ha fondamenti. Si trae origine da una gigantesca crisi dei fondamenti, nel nostro caso i fondamenti della Repubblica Cristiana, i fondamenti della tradizione cristiana. Proprio in virtù di quei fondamenti, di quella crisi dei fondamenti, abbiamo dovuto inventarci la sovranità. Dante, che stupido non era, non avrebbe capito di che cosa stiamo parlando quando diciamo sovranità. Perché Dante ragionava con una coppia di concetti che noi non possiamo più adoperare. Cioè col concetto di autoritas e col concetto di potestas. E noi non li conosciamo più perché per noi autorità e potere sono la stessa cosa e invece sono due concetti assai diversi che vogliono dire cose assai diverse e si riferiscono a funzioni politiche assai diverse. Per cui quando un mio collega politologo mi ha detto proprio nel momento in cui stavo presentando il mio ultimo libro su sovranità, con lui al fianco, diceva insomma questa sovranità. Ma se io ti dico Roma senatus popolusque romanus dov'è la sovranità? Le dico e lì non c'è. Perché lì c'è l'auctoritas cioè il senatus e la potestas cioè il popolus che messi insieme fanno l'imperium popoli romani. Ma per nessun motivo al mondo puoi tradurre queste cose con sovranità. Sovranità è un concetto esistenziale è un concetto politico esistenziale che sorge nel momento in cui la politica dubita di sé dubita cioè non sa più su che cosa si appoggia e quindi dice che si appoggia su se stesso. Questo è sovranità. è una sintesi politica che più frequentemente è uno Stato che dice io e deve dire io deve dire io perché non sa su quale su quale terreno perché non c'è un terreno solido sul quale esso può appoggiarsi. non c'è una tradizione è andata a pezzi nel nostro caso con le guerre civili delle regioni in Europa. La sovranità è qualche cosa di moderno perché è l'auto affermazione della politica e la politica non si è mai auto affermata tranne che nell'età moderna. La politica ha sempre detto io politica cioè rapporti di potere traggo senso e giustificazione da qualche cosa d'altro che so io dalla tradizione dalla religione da quel che vuole. È solo in età moderna che di fatto con molta fatica la politica dice io esisto perché esisto anzi meglio ancora io esisto perché voglio esistere voglio esistere la sovranità esprime questo carattere esistenziale della politica voi capite che se c'è qualcuno che dice io esisto perché voglio esistere sta già dicendo che potrebbe non esistere è già in preda all'ansia di forse al timore di sprofondarne il nulla la sovranità è una politica infondata che vuole affermare se stessa senza avere senza senza voler far ricorso ad alcun fondamento esterno pensate alla nostra costituzione su che cosa si fonda la nostra costituzione esplicitamente soltanto sul lavoro che è un concetto estremamente complesso ma certamente è un concetto che non è religioso non è razziale non è nazionale vuol dire la interazione fra gli uomini mediata dalla interazione degli uomini con la natura questo è il lavoro la nostra la nostra repubblica non è altro che un insieme di esseri operosi che esistono grazie alla propria opera senza dover far ricorso a null'altro e per questo sono sovrani è sovrano questo insieme dunque non c'è nessuna garanzia la sovranità è una politica che conosce il proprio rischio una politica che vuol mettere ordine vuole affermare la propria esistenza come esistenza tipicamente ordinata cioè prevedibile sapendo che questa prevedibilità non c'è in natura e va assicurata attraverso un'opera il nome tipico dell'opera in età moderna il contratto la sovranità può essere per grazia di Dio e certamente si è presentata sempre solo in età moderna si è presentata come sovranità dinastica per grazia di Dio ma è stata abbastanza presto sfidata e poi sconfitta dalla sovranità popolare e dalla finzione che che però è una finzione essenziale che la politica sia il prodotto della libera volontà razionale di tutti i cittadini i quali affermano di esistere volete l'esempio più clamoroso la costituzione degli Stati Uniti d'America come comincia? We the people ecco quando c'è un gruppo di esseri umani capace di dire politicamente we the people noi il popolo in quel momento nasce una sovranità che come vedete è una rappresentazione è è un'idea non è una cosa nasce dal dal fatto che ci sentiamo tutti quanti membri di un corpo politico state attenti perché non ho detto che abbiamo tutti lo stesso sangue la stessa razza la stessa religione la sovranità si fonda sulla unità di cittadini sulla cittadinanza che ti unifica che cosa abbiamo in comune noi italiani il fatto che siamo cittadini di uno stato sovrano chiamato italia basta questo essere cittadini a che cosa serve a ciascuno di noi serve perché garantisce qualche diritto ma a noi tutti insieme a che cosa serve se la sovranità a ciascuno di noi serve perché ci garantisce dei diritti all'insieme di tutti noi a che cosa serve la sovranità ci serve per farci esistere sulla scena mondiale la sovranità ha sempre queste due facce interno e esterno io esisto come entità sovrana e quindi ho al mio interno un determinato ordinamento io esisto come entità sovrana e quindi mi rapporto all'esterno in un certo modo verso entità a me analoghe allora la sovranità è un concetto politico esistenziale vuol dire la politica si fonda su se stessa su un atto di volontà e di proiezione noi il popolo la politica sovrana ha due dimensioni l'interno e l'esterno detto in un altro modo non c'è sovranità se non ci sono confini grazie ai quali distingue l'interno dall'esterno ovviamente poi ancora la sovranità è un insieme di rapporti di forza un insieme di rapporti di potere all'interno perché certamente i cittadini sono davanti alla legge tutti uguali certamente i cittadini partecipano in condizioni di uguaglianza la vita politica ma altrettanto certamente i cittadini sono più o meno chiaramente organizzati attraverso gruppi fasce sociali che conoscono diverse modalità di affermazione di questa o di quella classe sociale per cui la sovranità è un'esistenza puntuale puntuale geometrica e concreta puntuale io esisto e voglio esistere geometrica io sono una figura geometrica concreta io sono un corpo politico articolato ci siamo fin qua per cui ho già fatto un passo avanti rispetto alla definizione giuridica di sovranità che è insufficiente perché è una definizione che parla solo del fatto che è possibile individuare un punto nel quale anche solo con una proiezione convergono tutti i poteri istituzionali dello Stato come in un quadro rinascimentale voi vedete c'è una bella prospettiva ecco la prospettiva in linea teorica ma anche molto vera molto concreta potrebbe essere ricostruita facendo una proiezione ecco il punto in cui si uniscono le linee della proiezione geometrica che ti dà la prospettiva a quel punto anche se non c'è nel quadro tuttavia deve essere concepito allora un giurista dice ecco quel punto in cui convergono anche se non esiste un'istituzione sovrana anche se la sovranità è distribuita fra varie istituzioni il punto a partire dal quale è possibile vedere le istituzioni come convergenti quel punto è la sovranità io dico beh è un po' poco perché in questo modo tu mi dai soltanto la dimensione del poligono cioè dei confini e del centro del poligono non mi dai la definizione esistenziale cioè non capisci come nasce a che cosa serve la sovranità e soprattutto non capisci come è organizzato il corpo cioè non capisci che la sovranità è anche un corpo politico organizzato che può essere trasformato la storia moderna è la storia A dell'affermazione della sovranità B del passaggio della sovranità dal re al popolo l'affermazione della sovranità vuol dire rottura della tradizione a operare questo è sufficiente un dinasta un re il quale non rompe con la tradizione fino al punto di dire io sono re ma sono ateo perché non è scemo perché sa benissimo che gli conviene mille volte dire io sono re per grazia di Dio ma certamente non sta dicendo quello che poteva dire un buon imperatore medievale cioè io sono re e io sono imperatore e collaboro col pontefice a governare questo mondo che è intrinsecamente ordinato e che sarebbe in pace se in esso non fosse il peccato questo ti dice la tradizione un re moderno dice di essere pregati di Dio ovviamente cosa vuol che si faccia reggere dal popolo e quindi fa un'alleanza trono e altare ovviamente un'alleanza trono e altare che egli cerca di sbilanciare più che può a proprio favore e soprattutto sa benissimo che deve deve correre per tutta la vita perché fare il re vuol dire esprimere sovranamente l'esistenza di un corpo politico che è continuamente minacciato e che deve continuamente tentare di minacciare gli altri questo è la sovranità sovranità è questa esistenza dura molto dura drammatica questa esistenza di un corpo che ha continuamente fame e quindi la sovranità deve alimentare continuamente al proprio interno le forze economiche perché lo Stato che è la forma tipica della società deve essere ricco e può essere ricco se nel proprio interno c'è una società ricca lo Stato deve essere grande e quanto più è grande tanto meglio è e quindi deve espandersi lo Stato deve essere capace di avere le sue colonie dove vanno a finire gli avventurieri che porteranno ricchezza lo Stato è qualche cosa nega il proprio nome lo Stato vuol dire stabilità in realtà è sempre in movimento è la sovranità è il punto che fa esistere lo Stato il confine che lo delimita ed è il corpo grazie al quale quello Stato è un essere vivente allora uno dice bene quindi a un certo punto succede succedono per vari motivi in modi diversi nei diversi Stati europei sulla base di diversi rapporti di forze di diverse tradizioni organizzative succedono o guerre di indipendenza o guerre civili o rivoluzioni o collassi istituzionali grazie ai quali in modi diversi e in tempi diversi a un certo punto si arriva all'esistenza di sovranità popolari che funzionano esattamente come le sovranità regge chiaramente con una maggiore diciamo così liberalità della forma giuridica ma questo è ovvio chiaramente con una maggiore apertura alla democrazia anzi sovranità popolare e democrazia sono perfetti sinonimi sotto il profilo istituzionale certamente ma anche il corpo politico il corpo politico si comporta allo stesso modo prima vuole esistere vuole secondo vuole esistere come ordinamento dentro alcuni confini terzo vuole esistere come potenza prima di tutto economica e quindi sarà guidato da questa o da quella classe sociale o da questa o quell'alleanza di classi sociali che in un certo momento storicamente sono in grado di produrre la maggiore quantità di energia espansiva ci siamo fin qua allora la sovranità a questo punto è un concetto esistenziale che vuol dire anche ulteriore nuova drammatica caratteristica che che non è soltanto come vi ho detto all'inizio non è soltanto un nomos ma è anche una anomia non è soltanto un ordine orientato ma contiene anche un disordine detto ancora in un altro modo la sovranità non consiste semplicemente nel fatto che il potere politico rispecchia in modo coerente e razionale bisogni e necessità del corpo politico esiste una autonomia della sovranità questo è inquietante ma è vero quali sono i segni principali della sovranità l'indipendenza politica non sei sovrano se hai in testa qualcuno che ti comanda poi la capacità di darti in piena libertà un ordinamento giuridico poi la capacità di battere moneta e di estrarre risorse col fisco se le risorse te le estrae un altro non sei sovrano poi ahimè la guerra lo ius ad bellum il diritto di fare la guerra è una delle più evidenti caratteristiche della sovranità e poi ancora l'eccezione cioè il fatto che la sovranità sia in grado di spezzare il proprio ordinamento giuridico la sovranità è qualche cosa che dà ordine all'interno ma non consiste soltanto nel dare ordine non è essa non è solo pacifica voi direte ma che brutta cosa per carità nessuno vuol dire che è bello però facciamo un un paragone sempre improprio ma insomma da questo punto di vista può funzionare un paragone fra un'entità sovrana è un essere umano un singolo essere umano un singolo essere umano presumibilmente e quasi sempre è gentile civile beneducato cerca di esistere di essere se non ricco almeno non miserando di lavorare e non è necessariamente un teppista attaccabrighe ma in determinate circostanze può far ricorso alla violenza per poniamo autodifesa e guardate in quel momento il giudice sulla necessità dell'autodifesa è lui non se lo lascia dire da qualcun altro difenditi se lo dice da solo ecco questa facoltà di passare dalla pace alla guerra ogni essere esistente ce l'ha e perché non la dovrebbe avere un soggetto politico certo nel paradiso non ce l'ha certamente ma finché siamo su questa terra è molto complicato e siamo più di uno e siamo più di uno come siamo è molto complicato dire che la sovranità è male perché contiene lo ius ad bellum la sovranità contiene lo ius ad bellum per il buon motivo che la sovranità esprime la esistenza di un corpo politico dentro un'esistenza c'è anche la possibilità anche per il più pacifico degli uomini di entrare in una dimensione di violenza si dirà ma molto spesso la sovranità ha fatto la guerra quando non ce n'era bisogno certo disgraziati delinquenti tutto quel che volete ma l'estinzione di questa possibilità non la prevediamo nemmeno noi nel nostro articolo 11 perché letto con un po' di attenzione e di sapere storico quell'articolo 11 che è stato scritto per preparare l'Italia all'ingresso nell'ONU quell'articolo dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali che è detto perfettamente tanto per cominciare ripudiare è un gesto sovrano vuol dire che io di mia spontanea volontà senza alcuna coazione faccio una certa cosa quando c'era il ripudio mandavo a casa la moglie perché ne avevo abbastanza adesso adesso sovranamente io non voglio più fare ricorso a quello che sarebbe un mio ovvio diritto ovvio perché se no non fosse un mio diritto non sarebbe io non posso ripudiare il fatto che non rubo il portafoglio a quella signora perché non è mio diritto rubarle il portafoglio io però posso ripudiare il mio diritto di fumare cioè decido liberamente di fare qualche cosa che è indubitabilmente mio diritto ripudio la guerra vuol dire la guerra è indubitabilmente un mio diritto sovrano e io liberamente dico non lo adopererò calma non lo adopererò per far che cosa per risolvere le controversie internazionali mi sto spiegando per risolvere le controversie cioè non considererò la guerra come uno dei possibili strumenti per risolvere le controversie internazionali però mi riservo il diritto di fare la guerra tant'è vero che successivi articoli della Costituzione nominano la guerra e normano le modalità della sua dichiarazione e la modalità della sua esecuzione che guerra evidentemente è la guerra di difesa però anche qui una guerra di difesa è una guerra cioè ci si fa male lo stesso per cui la guerra te ne puoi liberare come elemento normale del tuo diritto ma te la conservi per il fatto stesso che esisti su questa terra non puoi non considerarla come un'eventualità remota e deprecabile e tuttavia che si può presentare non a caso l'abbiamo normata in costituzione chi la dichiara chi la delibera chi la dichiara e chi la conduce la delibera il Parlamento la dichiara il Capo dello Stato la conduce il Governo a cui vengono dati i poteri necessari nemmeno tutti i poteri i poteri necessari e durante la guerra non si fanno le elezioni politiche infatti io avevo suggerito di dichiarare guerra a uno staterello qualunque del pacifico meridionale e così non si andava alle elezioni politiche ma non mi hanno dato retta le ragioni della sovranità non coincidono con le ragioni dei cittadini almeno in linea teorica poi nel secondo dopoguerra ci siamo sforzati di costruire delle sovranità che aderiscano alle ragioni dei cittadini per il 99,9% dei casi ma certamente tutti sanno che la sovranità ha una sua autonomia cioè può fare cose che fanno dispiacere ai cittadini ve ne dico una che abbiamo fatto quella che è stata presentata come vincolo esterno che voi capite che il concetto di vincolo esterno è il contrario del concetto di sovranità che cos'è il vincolo esterno lo smè e poi l'euro cioè abbiamo costruito una gabbia ci siamo chiusi dentro abbiamo buttato via la chiave cedendo cedendo un aspetto della sovranità la sovranità monetaria allora adesso devo dire un'altra cosa la sovranità come ve l'ho spiegata io è qualche cosa di credo abbastanza chiaro se ve l'avessi spiegata un giurista sarebbe stata anche molto più chiara però la sovranità si manifesta nella sua forma pura in due circostanze sui libri dove appunto ti viene spiegato che cosa è e nel caso d'eccezione o quando dichiari guerra lì si capisce che cos'è la sovranità cioè è una facoltà di agire incondizionata incondizionata cioè che rompe i propri condizionamenti speriamo di non vederla mai e basta in mezzo tra questi due estremi dal libro all'incondizionato la sovranità è sempre impura non è mai piena e assoluta anzi è un concetto plurale e pluralistico nemmeno gli Stati Uniti hanno una sovranità che si impone assolutamente la sovranità consiste nel fare i conti col mondo e quando fai i conti col mondo o sei in preda un delirio letteralmente è un delirio o fai i conti col fatto che a questo mondo ce ne sono degli altri come te qualcuno più piccolo a cui puoi dare un buffetto qualcuno più grosso che devi rispettare qualcuno molto più grosso che devi temere per cui è perfettamente inutile che l'Italia dichiari guerra nell'ordine alla Francia all'Inghilterra all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti si può fare stava esercitando un suo diritto di sovranità però se ritrovata sconfitta sovranità non è onnipotenza è fare i conti col mondo è realismo e come vi dicevo a partire dall'8 settembre 1943 vi sono fette della nostra sovranità che non ci appartengono più di fatto cioè sovranità politico strategico militare noi non l'abbiamo perché a abbiamo perduto la guerra b ci siamo stati piuttosto comodi nella situazione che si è creata dopo e abbiamo risparmiato un mucchio di soldi perché naturalmente il cotè politico strategico militare della sovranità costa un mucchio di soldi e se tu fai parte della Nato e se te ne stai bravo caldo accucciato nelle tue caserme a fare esercitazioni in ordine chiuso come ho fatto io quando ero militare rischi non ne corri soldi non ne spendi chiaro non fai non fai la Weltpolitik la Weltpolitik ti sei giocato la facoltà di farla quando hai perduto niente meno che la seconda guerra mondiale o che credevi che te la facessero perdere poi ti dessero anche un buffetto dicessero dai abbiamo scherzato sovranità politico strategico economica quella lì è per tutto io posso per filodire è per fortuna poi ci siamo giocati un pezzetto mica indifferente di sovranità economica cioè precisamente la sovranità monetaria non ci siamo giocati la sovranità di bilancio nel senso che tutti gli anni il Parlamento di espressione rappresentativa della sovranità popolare organo in cui la sovranità viene rappresentata il Parlamento decide come spendiamo i nostri soldi non ne possiamo più stampare ma come li possiamo spendere lo decidiamo ancora sovranità dell'ordinamento e noi del tutto liberamente abbiamo deciso che vi è una supremazia della legge europea sulla costituzione italiana fatti salvi i principi fondamentali non sono molti i paesi in Europa che hanno deciso questo secondo me abbiamo fatto male ma insomma mi fanno lo stesso a questo punto messi giù questi paletti penso che abbiamo capito che sovranità ha a che fare con la serietà della politica ma non con il fascismo la sovranità è l'aspetto severo della politica non è l'aspetto fascista se avessimo chiesto a Togliatti Togliatti scusi lei è sovranista lui dopo averci spiegato che la parola non esiste e quindi dobbiamo tornare a scuola perché siamo delle bestie ignoranti avrebbe detto se lei pensa che io mi dica qualcosa contro la sovranità italiana lei scherza la sovranità è intoccabile poi noi siamo internazionalisti che vuol dire che vogliamo bene ai fratelli proletari degli altri stati e non faremo la guerra contro di loro forse fine fine l'idea che si possa parlare di politica senza parlare di sovranità è un'idea che esiste che si fonda su determinate tradizioni di pensiero certamente ovviamente diciamo rivisitazione di spinolbre diciamo utilizzazione a man bassa di Foucault diciamo globalismi vari diciamo critica al fallo logocentrismo della sovranità critica al principio di unità che è presente dentro la sovranità la sovranità vuol dire se non sei un'unità politica non esisti ecco sì a parole si può dire tutto poi un'organizzazione storico empirico concreta di esistenze umane senza la sovranità c'è un'organizzazione c'è un'organizzazione c'è un'organizzazione poi c'è un'altra ipotesi molto più forte al di là di quella filosofica che conta poco molto più che però parallela ad essa curiosamente cioè non solo i no borders filosofici ma i no borders economici cioè i neoliberisti che per un po' hanno provato a farci credere che era possibile vivere dove le cose in un contesto in un modo in cui le cose importanti non le faceva la politica non le faceva lo Stato non le faceva la politica non le faceva la sanità le faceva l'economia il destino di un popolo era assegnato dall'economia la qualità dell'esistenza era assegnata dall'economia non importa essere cittadini non importa essere nel mercato avere accesso al mercato è ciò che conta non avere accesso alla cittadinanza lo Stato non ha alcuna autonomia è soltanto un sistema servile di burocrati che non devono fare altro che estinguersi e mentre si estinguono rendere possibile il buon funzionamento del mercato naturalmente anche la tradizione marxista in linea di principio soltanto teorica aveva a che fare con l'estinzione dello Stato però voi capite che l'estinzione dello Stato predicata dai sovietici faceva un po' ridere i sovietici non è che lo stesso restinguendo lo Stato stavano facendo l'esatto contrario avete invece un solido tentativo di fare stringere lo Stato cioè di far sì che gli esseri umani non debbano più ricorrere alle seguenti categorie politica sovranità e Stato queste sono categorie le prime due residuali la terza proprio deve scomparire la sovranità deve scomparire restano la politica come insieme di buoni sentimenti e di assecondamento delle dinamiche economiche lo Stato come rotellina ingranaggio a livello locale di una macchina mondiale questo l'hanno fatto in un'università poi si sono ricreduti ma insomma intanto che l'hanno fatto ci sono state tutte le deregolation le deregolation sono per l'appunto le sovranità che dicono beh io cesso di essere un ostacolo perché è chiaro che la sovranità è un ostacolo a tutti i vettori mondialisti o internazionalisti essa è un ostacolo l'economia nasce dentro lo Stato la situazione della globalizzazione invece è dove avrebbe dovuto essere gli Stati si danno all'interno dell'economia mondiale proprio questa inversione spaziale lo Stato dice al mio interno io faccio crescere un'economia perché mi serve però questa economia quando va fuori quando va all'esterno beh paga d'azio paga d'azio a me anche perché poi paga d'azio agli altri Stati non è che ad esempio il capitalista tal dei tali può portarmi fuori dall'Italia una vagonata di miliardi come gli pare e no e no il sistema che viene variamente definito come l'ordine liberale del mondo insomma il sistema che nasce con la fine della seconda guerra mondiale dal punto di vista economico il sistema di Bretton Woods che nasce in realtà nel 44 a Washington è un sistema che prevede tante cose ma non prevede la libera circolazione dei capitali prevede l'esistenza degli Stati come entità che riescono a porre vincoli limiti freni al mercato comanda la politica ed è un sistema fatto dagli americani cioè non dai comunisti comanda la politica le merci bene facciamo le trattative per abbassare ad agio le barriere doganali i capitali non se ne parla gli esseri umani sì sotto controllo politico si muovono sotto controllo politico tutto ciò è saltato quando è saltato il modello economico che era implicito cioè il modello che è innessiano tutto ciò è saltato quando gli americani hanno fatto la guerra in Vietnam e hanno esportato una mostruosa inflazione in tutto il mondo quando i paesi petroliferi hanno fatto esplodere il prezzo del barriere di petrolio e quando si è capito che lo Stato che era diventato Stato sociale richiedeva una quantità di risorse che erano incompatibili con i profitti da cui l'equazione capitalismo e democrazia non stanno insieme il grande libro della Trilateral tradotto in italiano nel 1975 Brezinski Kissinger e i suoi uomini e la tesi di fondo è bisogna scegliere fra la democrazia Huntington Crozier Huntington e Brezinski i tre curatori bisogna scegliere vuoi il capitalismo vuoi la democrazia democrazia sociale democrazia con i partiti con i sindacati che comandano con la burocrazia con lo Stato sociale con l'antifascismo c'è cose che i più giovani qui dentro non sanno neanche che cosa vuol dire insomma ma che sono le cose che sono state la nostra esistenza la risposta è stata bene vogliamo il capitalismo e nel giro di cinque anni si passa si passa da Nenni alla signora Thatcher e a Reagan e tutto quello che segue cioè la deregulation dei capitali fatta prevalentemente dai governi di sinistra europei negli anni 90 con il bel risultato che il mondo è entrato in una situazione di grande sviluppo nei paesi veramente sottosviluppati e di grande crisi nei paesi sviluppati che hanno cominciato a subire la concorrenza dei cinesi semplicemente e quindi e quindi il modello economico prevedeva che tenuto fermo come variabile indipendente il profitto per risparmiare puoi soltanto abbassare le paghe degli operai o aumentare la loro produttività farli lavorare di più e pagarli di meno e cominciando col togliergli tutti i diritti che gli si possono togliere particolarmente il diritto all'impiego a tempo indeterminato che è un vincolo fortissimo alla libertà di iniziativa economica non vi è dubbio non vi è dubbio ecco le società occidentali sottoposte a questo regime neoliberista hanno sviluppato prima grande euforia che bello ci liberiamo dai sindacati ci liberiamo dai politici anche perché nel frattempo la stampa che naturalmente è di proprietà dei magnati ha insegnato a tutti noi quanto è brutta la politica quanto è cattiva la casta quanto sono corrotti i partiti ci hanno messo dell'oro non è che fossero degli angeli ma l'idea invece di dire questi partiti sono corrotti l'idea fu l'esistenza dei partiti è inutile e anch'io se fossi un super miliardario sarei lieto che il mio paese non conoscesse dei partiti certo così mando un mio direttore generale a fare il ministro ed è tutto più semplice naturalmente il modello non tiene sotto il profilo economico è un continuo esplodere di bolle e di crisi perché? ma perché se tu togli abbassi gli stipendi togli le sicurezze togli la pensione togli il post office e non vuoi vedere la società impoverita in modo drammatico perché hai bisogno di vendere le tue merci a questi qui che cosa gli devi far fare? beh devi scambiare il salario col debito e gli dici e indebitatevi su indebitarsi è bello e a un certo punto a furia di indebitare la gente chi erogava il credito si è trovato che ha perduto un bel po' di denaro perché aveva dato soldi anche a chi non doveva darli la crisi del 2008 da cui realtà più sicure e meglio organizzate della nostra sono uscite noi non siamo ancora usciti ma attenzione anche a quelli che ne sono usciti ne sono usciti non restaurando i diritti degli operai e dei lavoratori sono usciti approfondendo le logiche capitalistiche non smorzandole per cui se ne esce aumentando la produttività se ne esce rendendo il lavoro ancora più flessibile non è che se ne esce tornando allo stato sociale poi noi non ne siamo proprio usciti e basta ecco ecco il sovranismo oh mamma mia è così facile ecco il populismo ed ecco il sovranismo dopo un po' dopo vent'anni venticinque trenta di questa cura le società occidentali hanno capito alcune cose che la lotta all'inflazione è una cosa bella ma se la lotta all'inflazione produce deflazione se la lotta all'inflazione vuol dire tolgo i soldi di tasca a te operaio è meno bella se la lotta all'inflazione vuol dire e ti tolgo anche la pensione è meno bella prima te la raccontano dicendo ma sì narrazione euforica evviva finisce finisce la coesistenza umana fondata sul comando la sovranità dopotutto è un comando comincia l'esistenza umana fondata sul contratto e sul rischio sulla sfida sulla intrapresa grande narrazione degli anni 90 non c'è più il governo c'è la governance e via poi arriva la crisi del 2008 la risposta la risposta è maledetti voi perché vi siete indebitati pagherete in modo sanguinoso il vostro comportamento irresponsabile siete senza soldi io vi tolgo anche quelli che avete questo dove in Europa perché perché l'Europa per vari motivi ha tentato di affermarsi sulla scena mondiale con la moneta unica naturalmente costruendo una moneta fatta uguale al marco tedesco costruita sulla stessa logica sulla stessa filosofia politico-economica l'ordoliberalismo che non è coincidente con il neoliberismo e che è particolarmente attento alla disciplina di bilancio soprattutto a quell'altrui ma insomma e tanto perché capiate di che cosa sto parlando sto parlando di Monti prima c'erano le cicale Berlusconi e Tremonti che dicevano indebitatevi godete poi la crisi allora Tremonti pone in essere delle prime misure durissime Berlusconi non vuole viene fatto dimettere non sto difendendo Berlusconi non vuole perché sapeva che si perde consenso a far così insomma viene fatto dimettere e arriva arriva Dracula a fare la guardia alla banca del sangue cioè Monti e il risultato qual è? il risultato è anche grazie a un algoritmo sbagliato l'austerità progressiva l'austerità espansiva si è rivelato un piccolo errore di calcolo l'austerità non è espansiva e ci ha ammazzato del tutto dopodiché niente la storia dei nostri giorni cioè ci sono stati quelli che hanno detto ma dai va tutto bene forza coraggio è viva crediamo nel capitalismo nel turbo capitalismo rottamiamo tutto quanto e non era vero semplicemente non era vero era l'assunzione di sostanze psicotrope e basta e la società italiana nel frattempo stava dicendo ma se va tutto così bene com'è che io non arrivo alla fine del mese com'è che mio figlio non trova lavoro com'è che la sanità tutti gli anni è sempre sottofinanziata e i servizi che si aveva sono sempre peggiori com'è che la scuola fa pena io devo portare la carta igienica la scuola SIC com'è che l'università è degradata è diventata un sistema a macchia di leopardo ci sono alcune che vanno bene altre che vanno male e non c'è verso com'è che l'economia non riprende com'è che è stoppeggio e si sono dati la risposta che ad essi è stata fornita dai partiti che hanno avuto il buon senso di dare retta a queste proteste e non di dire non è vero tu stai benissimo sei ignorante non riesci nemmeno a capire come stai te lo dico io che stai bene te lo diciamo noi bocconiani che stai bene te lo diciamo noi di wall street che stai bene ci sono stati quelli un po' più intelligenti che hanno detto ah stai male sì è vero poverino ti spiego io perché è colpa di questo è colpa di quello e questi hanno preso i voti ma guarda un po' ma chi l'avrebbe mai detto chi l'avrebbe mai detto che a insultare gli italiani o a tentare di fargli credere che stanno bene perdi i voti e che a dirgli che invece poverini sono vittime di qualcuno i voti te li danno poi è molto probabile che queste risposte positive poverino lo so che stai male la colpa è di questa cosa probabilmente questa risposta è una risposta sbagliata in malafede tutto quel che volete ma almeno gli hai dato la soddisfazione di dargli ragione allora siamo in questo punto che la sinistra è fatta da coloro che escono alle 21 per andare al concerto e la destra è fatta da coloro che escono alle 6 per andare a lavorare non è mia è di Mario Tronti ma ci assomiglia molto perché quelli che escono alle 6 per andare a lavorare lo sanno che stanno male e votano per quelli che gli dicono sì tu stai male quelli che escono alle 21 perché stanno bene vanno a sentire il concerto ultra raffinato per carità ci sono anch'io fra loro e sono quelli che votano a sinistra che non sono così zotici da votare a destra solo che in un mondo come questo nostro questi sono se va bene il 20% e gli altri sono l'80% questa è la storia gli altri vengono chiamati populisti e sovranisti perché? ma perché dicono che il popolo è maltrattato e che il popolo è migliore dei suoi governanti e perché sovranisti? perché chiedono protezione e sicurezza e la protezione e la sicurezza non da che mondo è mondo ma da che c'è l'età moderna la si chiede alla sovranità e si individua nelle forze che violano la sovranità il nemico e l'amico in colui che ripristina la sovranità e ti difende i vettori internazionali sono il nemico la sovranità è l'amico perché quei vettori li smorza gli dice oh prima di entrare in casa mia pulisci i piedi è facilissimo da dire non è che gli italiani sono diventati fascisti ma quando ma dove ma come ma che fascisti parte che il fascismo è stato tante di quelle cose che non saprei dire non saprei dire che cosa a che cosa si riferisce colui il quale afferma che gli italiani sono stati fascisti sono diventati tutti diciannovisti sono diventati tutti repubblichini sono diventati tutti avanguardisti sono diventati tutti fascisti degli anni del consenso che cosa ma che senso ha poi il fascismo se era qualcosa era la teoria delle inevitabili mescolarsi di politica e violenza ma vi sembra? qui è l'esatto contrario è l'esatto contrario qui quella che viene chiamato fascismo è la richiesta di protezione altro che di violenza da coloro che la violenza l'hanno subita o credono ad averla subita forse si sbagliano forse non l'hanno subita forse l'hanno subita a opera di qualcuno che essi non capiscono e non vedono bene però una violenza credono di averla subita siccome in democrazia conta la maggioranza se la maggioranza di italiani pensa di aver subito violenza e pensa di volersi difendere da quella violenza attivando quello scudo che è la sovranità è normale che ciò avvenga e non è fascismo al massimo è un fenomeno strutturalmente analogo al fascismo ma solo strutturalmente nel senso che come il fascismo ce l'ha insegnato Carl Polany non è stato altro che la risposta delle società all'eccesso di politica capitalistica privatistica quando questa politica economica privatistica ha portato il mondo alla catastrofe del 29 così oggi la richiesta di protezione è funzionalmente la stessa cosa è la protesta contro lo strapotere dell'economia privata e il fatto che essa economia privata sia stata eretta a idolo a dio a misura di tutte le cose con l'aggravante e questo è il neoliberismo con l'aggravante e questo è l'ordoliberalismo che non possiamo nemmeno stampare moneta per difenderci dai suoi squilibri non è difficile capire che cosa è successo è difficile venirne fuori non è difficile però queste cose vengono lasciate dire e fare soltanto due o tre forze politiche quelle cattive mentre i buoni pensano che gli italiani siano diventati brutti sporchi cattivi e fascisti non si sa perché un'ondata d'odio attraverso il paese l'insofferenza l'intolleranza chissà perché forse hanno tutti letto che so io Julius Evola Gobino Carl Schmitt Rosenberg in edizione originale in tedesco perché non è tradotto in italiano o forse perché gli han portato via la pensione o forse perché il figlio non trova lavoro chissà a voi la risposta certamente la sinistra sembra più propensa a indicare la causa nelle sovrastrutture hanno letto troppi libri cattivi credevo nella mia ignoranza che la sinistra fosse il lato del radicalismo di quelli che vanno alla radice alla struttura credevo che un minimo di analisi storico politico economico sociale la si potesse fare no bisogna dire che il mondo è brutto e cattivo e che chi ci governa è mostro e che chi lo vota è doppiamente mostro e lasciare tutto il resto così com'è e niente articolo 18 è sempre sotto finanziamento dei servizi pubblici e viva l'euro e viva il vincolo esterno e se uno chiede di non essere crocifisso dal vincolo esterno è un sovranista passeremo alla storia come uno dei tanti casi di totale cecità della sinistra totale cecità della sinistra che aveva veramente praterie ma ha scelto la parte sbagliata si è messa coi padroni con le forze che muovono il mondo pensando di non riuscire a modificarle e che sinistra è queste cose le fa la destra stare coi potenti dicendo è così perché è così e non ci puoi fare niente è sufficiente essere di destra la sinistra sempre nella mia ignoranza credevo che fosse un movimento di pensiero e di azione volto a modificare la struttura dei rapporti economico social non a fare le prediche sui migranti far le prediche c'è la chiesa che le fa meglio di chiunque altro la politica non fa prediche la politica si deve porre domande quelle giuste e dare risposte quelle giuste ad esempio perché mai dobbiamo darci continuamente porci continuamente la domanda come dobbiamo trattare i migranti e non invece porci l'unica domanda sensata radicale ma perché vengono via che cosa sta succedendo a casa loro che vengono via di chi è la colpa di ciò che sta succedendo qual è il meccanismo che fa sì che vengono via questa è una domanda di sinistra altrimenti è ridicolo chiedersi come dobbiamo trattarli è cecità e come tutte le cecità in politica si pagano perché la politica è davvero la dimensione della spietatezza non della misericordia cioè chi fa errori in politica li pagano non c'è un tribunale d'appello forse c'è la storia forse c'è Dio il giorno del giudizio ma qui in questo mondo puoi sbagliare a scuola il professore ti corregge ma se sbagli in politica ma chi ti corregge ti saltano addosso la politica è l'estrema istanza la sovranità è importante perché consiste quantomeno nella consapevolezza che agli errori non c'è rimedio io esisto in un mondo difficile e drammatico questo è la sovranità non posso permettermi di sbagliare noi invece ci siamo permessi ci siamo permettendo di tutto noi siamo pronti a cedere sovranità noi mettiamo in dubbio che il concetto di sovranità sia un concetto utilizzabile nel discorso politico cosa che non fa nessuno nel pianeta terra non lo fanno in Corea del Nord e in Corea del Sud in Giappone nelle Filippine in Cina in Russia negli Stati Uniti in Brasile in Israele in Turchia in Arabia Saudita in Egitto in Sudafrica in Inghilterra in Francia in Germania andateglielo voi a dire in Germania in Francia tu non hai sovranità sovranità brutta cattiva butta via sovranità non toccare giù ma glielo a dire tu solo a noi si dice sovranità brutta cattiva non parlare di sovranità parla di quanto vuoi bene ai migranti e poi si lamentano se perdono le elezioni questa non è sinistra questa non è sinistra questo è delirio c'è da rifare come capite un meccanismo di analisi cioè un cervello bisogna riuscire come vogliono fare questi brillanti giovani del sottosopra a ribaltare un'egemonia come minimo cominciare a far circolare la voce che esiste la sovranità e che è bene saperla trattare che esistono le classi e che è una brutta cosa essere ridotti alla disperazione all'insofferenza alla mancanza a credere di essere privi di futuro e che non ci sono chiacchiere sulle nostre eccellenze che tolgano dalla testa della gente il fatto che a Napoli sparano per le strade così è necessario tornare alla vocazione originaria della sinistra radicalismo non superficialità oggi viviamo nell'universo della superficialità ti facciamo ridere divertire commuovere piangere quello che vuoi basta che tu non pensi ecco la sinistra deve fare il contrario pensiamo insieme e pensiamo le cose serie che non sono necessariamente quelle buone ma che sono sicuramente quelle che costituiscono la tua vita sono cose che in Italia si sapevano le sapevano i democristiani liberali i comunisti le sapevano ci hanno fatto la resistenza le sapevano i fascisti ecco il neoliberalismo ci ha fatto dimenticare tutto e adesso davanti alle sue crisi ci dice ma come osi protestare sarai mica sovranista la risposta è no non sono sovranista sono uno che cerca di tornare a mettere le mani negli ingranaggi della storia anche non solo anche attraverso il concetto di sovranità strappare il terreno sotto i piedi ti dicono sovranista e dici no credo nella sovranità articolo 1,2 tu no grazie per l'attenzione grazie 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 anche per essere stato meravigliosamente nei tempi intanto chiedo se si può aggiungere una sedia così che Thomas Fazzi possa raggiungerci qui sul sul palco abbiamo ancora un po' di tempo quindi se avete domande adesso c'è un po' di tempo per farle prima del prossimo intervento se ne avete vi prego solo di avvicinarvi così che possiamo darvi il microfono a favore della registrazione sì no la mia non era proprio una domanda ma era solo uno spunto per visto che era stato citato the crisis of democracy quindi quel periodo che ho letto l'altro giorno una intervista che aveva fatto Bernardo Bertolucci all'epoca raccontando quando era uscito il novecento che mi pare sia metà degli anni settanta circa e ha detto che in quel periodo aveva fatto una proiezione per gli allora dirigenti del partito comunista essendo un film abbastanza lungo di quattro ore ha fatto vedere la prima parte poi c'era stato tipo un piccolo dibattito così era previsto così poi la seconda parte ci doveva essere la seconda parte del dibattito finisce la prima parte che raccontava tutti i primi moti così tutti contenti la seconda parte è finita a gelo e ha detto guarda è meglio che il dibattito lo saltiamo poi gli hanno spiegato che era perché in quel film lì faceva vedere questa specie di processo maoista e questa cosa non era stata vista bene perché gli hanno spiegato guarda che in questo periodo noi stiamo cercando di avere un'interazione con diciamo il padronato chiamiamola così e lui fa all'epoca non compresi tanto bene rivedendo la cosa anni dopo ho capito ecco quindi non ho non è una domanda però era solamente una cosa che mi aveva colpito che già a metà degli anni 70 c'era questo spirito ecco volevo solamente sottolineare questo vuole dire qualcosa è meglio che non la dica è meglio che non la dica perché abbiamo abbiamo dei miti uno uno è berlinguer e che non può essere toccato certamente era molto migliore di quello che di tutto ciò che è venuto dopo ma ecco diciamo così diciamo così la subalternità la subalternità del partito comunista al paradigma economico comunque dominante è un fatto accertato è un fatto storico non non hanno mai pensato di saper fare qualche cosa di diverso hanno sempre solo preteso di saper fare meglio a volte è stato vero a volte no quando hanno capito a volte lo hanno detto c'è un famoso discorso di Napolitano che gliel'ha poi scritto spaventa sull'ingresso dell'Italia nello SME e lui l'ha capito l'ha detto è un modello deflattivo volto a distruggere il potere d'acquisto dei ceti medio-bassi e a punire severamente le organizzazioni dei lavoratori bravo però poi è stato lettera morte è caduto lì così anche perché bisogna dire che se mai Berlinguer avesse avuto un'idea di autonomia non dico terza via perché non voglio offenderne la memoria fino a questo punto ecco autonomia gliel'hanno fatta passare molto in fretta ammazzando Moro che era l'unica sponda che c'era sul mercato e naturalmente con con quell'uccisione la nostra fedeltà al modello atlantico e neoliberista è stata garantita per sempre ma penso che non ce ne sarebbe stato bisogno è stata una vita sacrificata probabilmente inutilmente non saremmo stati un grande pericolo per il capitalismo mondiale non volevamo esserlo non potevamo e le cose sono andate a finire come dovevano andare a finire prego grazie io volevo interloquire sulla questione a partire volevo fare un'interlocuzione su questo ovvero in che termini la sovranità è uno scudo alle ferite inflitte dal capitalismo sul corpo sociale il mio dubbio è che come dire ci sia una polarità che lei so come lettore di Agamben ha anche esplorato tra sovranità e governamentalità lei prima diciamo ha scritto diciamo nel partito dei globalisti insomma coloro che hanno come loro metra pensere Foucault eccetera però diciamo so che lei si è occupato anche di analizzare il pensiero di Agamben rispetto a Schmidt e Benjamin quindi siamo sicuri ecco che la sovranità abbia questo potere cioè di riuscire a fare da argine allo scempio diciamo che il governo delle vite del capitale può in essere questo rispetto a due esempi concreti uno è quello diciamo della per esempio dell'istituzione del contratto del contratto anche di lavoro per esempio che in Italia ma in altre parti del mondo è uguale in realtà in qualche modo è svuotato dal di dentro perché ciò che rende veramente effettivo il contratto non è l'istituzione del contratto ma la performance interna quindi il contratto serve solamente a stabilire un vincolo diciamo una come la chiamano gli economisti una dittatura benigna e poi quello che veramente fa la differenza è quello che succede dentro che non è definito nel contratto allo stesso modo mi sembra che la cittadinanza oramai sia anche lì un vincolo vuoto perché ciò che decide la la quantità di diritti a cui poter aspirare è la tua produttività no? ecco quindi a me sembra a volte che questa insistenza sulla sovranità sia un modo di eludere un'analisi più approfondita articolata dell'economia politica che mi sembra che sia stata un po' insomma è l'origine da cui è nato buona parte della sinistra nel mondo grazie io potrei cavarmela dicendole sono mica io che dico che la sovranità è un vinco è un scudo sono quelli che votano i partiti cosiddetti sovranisti anzi ho anche detto non è probabile che lì ci sia la soluzione però almeno fatti lo sforzo di capire che cosa sta succedendo questa è la prima risposta superficiale la seconda sì ma poi sono pieno di allievi che mi dicono proprio tutti questa roba qui si tratta semplicemente di fare una scommessa è vero che la potenza del capitale il biopotere capitalistico è invincibile ci sembra di sì è pervasivo tutta la società è una società di mercato queste non sono slogan da centri sociali questa è una fotografia del presente ditemi qual è un ambito dell'esistenza che non sia sottoposto a valutazione e monetizzazione e mercificazione ditemene uno e poi dopo io sono contento io ne ho trovato uno solo entrare in una brutta chiesa per pregare quello te lo lasciano fare già se la chiesa è bella devi pagare per entrare non c'è altro ambito dell'esistenza studiare sei valutato fare ricerca non ne parliamo sei sempre valutato di solito da persone incompetenti arte beh la parola d'ordine valorizzazione valorizzazione vuol dire mettere sul mercato trarre valore sanità beh te la fan pagare a me piacerebbe fare che qualche sociologo statistico si rendesse utile una volta nella vita facendo un facile controllo sull'età media dei ricchi rispetto all'età media dei poveri sull'aspettativa anzi sull'aspettativa media di vita dei ricchi rispetto ai poveri così e poi lasciamo che qualcuno ne tragga qualche conseguenza se è capace ditemi un ambito dell'esistenza in cui si può fare a meno del capitale e delle sue logiche non c'è e io sono vissuto in un'epoca in cui c'era ci mettevano dei muri dei muri fra la scuola e l'economia anche fra l'università e l'economia non servivamo a niente però almeno non eravamo valutati non eravamo monetizzati non ci toccava rispondere a domande idiote del tipo quanti brevetti hai ottenuto e quali sono le ricadute sul territorio della tua ricerca cosa che tutti i santi giorni tocca fare le ricadute sul territorio della mia ricerca che se non ci sono ricadute sei uno che ruba lo stipendio ma io studio il rapporto fra Adorno e Hegel quindi non vedo grosse ricadute e perché studi questa roba come ti permetti di studiare questa roba chiaro che un potenziamento della sovranità se fosse possibile potrebbe anche significare soltanto che queste logiche vengono implementate rafforzate militarizzate magari condite di un qualche diritto di intolleranza verso quelli che stanno peggio di noi così ti sfoghi classico le ho studiate anche io queste cose è molto probabile che vada a finire così se la richiesta di sovranità la intercetta sulla destra è molto probabile che vada a finire che ci teniamo il capitalismo più l'intolleranza se per caso la sinistra cominciasse a fare il suo mestiere magari una sovranità rafforzata potrebbe portare il paese verso una situazione di stato sociale non dico come quella degli anni 60 o 70 ma una situazione di minor squilibrio non si chiede mica tanto certamente la prospettiva che devi avere in mente è quella di superare la forma di produzione capitalistica perché se non ce l'hai in mente non fai neanche il primo passo che come sempre in attesa della rivoluzione mondiale è un compromesso costringi l'avversario a un compromesso non è difficile è stato fatto torniamo a farlo adesso c'è un pugile vittorioso e l'altro al tappeto dice ma è sbagliato leggere le cose in questo modo siamo tutti sulla stessa barca il corpo sociale è un corpo organico non ci sono vincitori e vinti eccetera eccetera e questa è la favola dell'ordoliberalismo la favola del neoliberismo è non mi importa niente di vincitori e vinti la vita è una giungla vince il migliore e vai al diavolo l'ordoliberalismo dice no c'è un corpo sociale organico c'è posto per tutti purché non ci sia l'idea di una lacerazione di un conflitto ci deve essere l'idea della collaborazione e poi vedrai come andiamo bene non hanno funzionato queste cose o se stanno funzionando il neoliberismo sta ancora funzionando da qualche parte del mondo stati uniti con costi sociali crescenti non a caso le elezioni le ha vinte Trump che naturalmente non è un comunista anticapitalistico ma è stato percepito come perché se no i voti dove li prendeva è stato percepito come il difensore dei perdenti nei confronti di poteri troppo forti lui era quello di sinistra e la Clinton era quella di destra la Clinton stava dalle parti dei vincitori non è vero l'hanno venduta così lei non ha saputo svendersi poi il risultato è che pare che il capitalismo ci sia ancora negli Stati Uniti e che non sono abbastanza informato per dire peggio o meglio certo c'è pure la ripresa economica per cui in breve ti dicono beh gente che prima l'ha disoccupata adesso ha un lavoro cosa vuoi di più della vita certo è pagato questa vita con la sottomissione ogni minuto della tua esistenza alle logiche del capitale ogni minuto della tua esistenza cioè se vuoi scappare devi finire in mezzo ai boschi forse però almeno il posto di lavoro glielo dai alla gente certo poi ci sono i poveri i grassi che non hanno la sanità ci sono e come eccetera eccetera nessuno pretende la felicità in terra però noi qui possiamo fare meglio sì in che modo costringendo il capitale a un compromesso dice ma come abbiamo un capitale esile anemico tu lo vuoi pure costringere un compromesso tanto quello resta esile anemico gli abbiamo spalancato tutte le strade gli abbiamo fatto tutte le deregulation e quelli continuano a essere esili anemici allora e in compenso abbiamo distrutto la società e siamo lì lì per distruggere la democrazia complimenti perché se è vero che quelli che votano certi partiti sono tutti fascisti beh allora la notizia è che più del 50% degli italiani è fascista mi pare leggermente esagerato ma certamente più del 50% degli italiani non è amica dell'ordine di cose esistenti dentro l'ordine di cose esistenti ci sono le buone maniere la bontà verso i migranti il rispetto degli altri e anche la democrazia più di metà degli italiani ha parecchio da ridire su tutto ciò complimenti abbiamo maledetto i democristiani per decenni mentre insieme ai comunisti facevano l'Italia adesso ci toccherebbe pure applaudire a questi che la stanno distruggendo e dire che va tutto bene e che l'Italia è un grande paese di grandi eccellenze che abbiamo i cuochi migliori del mondo l'elemento derisorio l'elemento derisorio è quello che è divenuto insopportabile tu non puoi andare a dire agli italiani che stanno bene perché non è vero il 20% degli italiani sta benino e il 2% sta bene allora se vuoi il voto del 20% ecco ti è contentato ti raccontavo una cosa che ci vuole il 51% per governo e non lo avrai mai non a caso stava facendo la legge elettorale e la riforma costituzionale congegnate in modo da consentire a chi prendeva il 30% di tenersi il governo per sempre questo è poi si può dire che sono tutti fascisti francamente consegnare metà degli italiani al fascismo mi sembra che sia una definizione un po' estesa di fascismo assomiglia alla definizione che dava Hobbes della tirannide cioè tutti quelli che non ti piacciono tu li chiami tiranni tutti quelli che votano per i partiti che secondo te non dovrebbero esistere tu li chiami fascisti ma bravo però questa non è politica questa non è politica dire certi partiti fossero in meno non dovrebbero nemmeno esistere non è politica no non è questione di fascismo è questione che è stata tirata troppo la corda perché di vincitori ce n'era rimasto uno solo e ha voluto strafare e ha voluto strafare nel bene tutti euforici nel male tutti da castigare per la nostra inveraconda capacità di fare debiti e nessuno che diceva niente io mi ricordo i senatori comunisti poi di Essini che scendevano dal treno a Bologna e dicevano oggi abbiamo votato l'articolo 81 abbiamo fatto bene bisognava votarlo bene ed eccoti ed eccoti il risultato goditi l'articolo 81 e con tutto quello che ci va dietro è chiaro che il primo che dice e io sforo il 3% e io mando al diavolo l'euro e chi sono queste dei Bruxelles piglia i voti è evidente alternativa non mandare più la gente a votare oppure fare tante belle agenzie neutrali neutrali tra mille virgolette che si occupano di tutto e lasciano al Parlamento eletto soltanto la determinazione dei giorni festivi come capitava al Senato di Roma durante l'Impero c'era il Senato aveva come compito quello di celebrare i giorni festivi della dinastia regnante vogliamo fare questo la verità è che ci sono problemi strutturali io non so come risolverli però so che ci sono e gli italiani forse è meglio dirglielo perché loro se ne sono già accorti se ne sono già accorti sulla loro pelle del biopotere se ne sono già accorti almeno glielo diciamo e poi gli diciamo anche guarda secondo noi per venirne fuori detto in modo veloce biopotere vuol dire capitalismo sovranità vuol dire che a un certo punto arriva un ostacolo un vincolo un limite che si chiama legge questo fai una legge la prima legge da fare abroghi l'articolo 81 la seconda torni a mettere l'articolo 18 non nell'ultima versione nella prima poi poi dopo cominci a rifinanziare la scuola la sanità l'università e poi e poi cominci a fare delle opere pubbliche e poi e poi dici metti sulle tue bandiere il mio nemico è la disoccupazione e se l'inflazione ti schizza al 5% pazienza io ero al mondo quando Andreata emetteva i bond al 23% perché c'era l'inflazione al 22% sono ancora qui non voglio l'inflazione al 22% però come mi dicono tanti colleghi esimi economisti un'inflazione al 5% cosa fa? ti riaggancia ti riaccende le lotte sindacali e beh perché peggio di così ti riaccende le lotte sindacali bene e facciamo le lotte sindacali e così i padroni si svegliano e i sindacati pure insomma torna un mondo fatto di sacrosanti fisiologici conflitti e questo è un discorso moderatissimo che se l'avessi fatto nel 68 mi avrebbero bastonato va bene e se lo faccio oggi passo per essere peggio di Lenin ecco non si può vivere in un perenne stagnante declino perché fermentano i rancori le insoddisfazioni e gli odi ma non perché ci sono i cattivi maestri perché c'è una cattiva politica e un cattivo paradigma economico o lo diciamo o diamo tutto in mano alla destra la destra economica prima fa i soldi poi fa i disastri poi arriva la destra politica e sociale e noi cosa ci stiamo a fare? bah qual è il nostro scopo nella vita? boh tutto tutto la destra fa bravi e io così per un vezzo da anziano sono ancora di sinistra guarda un po' però non per fare le cose della destra eh e no le fanno loro meglio no non le facciamo noi noi dobbiamo fare delle altre cose cominciare dalla nuova analisi nuovi paradigmi che poi sono vecchi però suonano nuovi e per stare alla sua alla sua domanda se lei ha ragione non c'è niente da fare allora uno lo accetta e sai cosa c'è di nuovo? ti saluto e vado a pescare è che non è vero nessuno ha pienamente ragione non è vero che il biopotere del capitale è invincibile è potentissimo però c'è una cosa che mi conforta il fatto che il capitale e i suoi ammennicoli mediatici continuano a temere selvaggiamente la politica lo stato la sovranità ai partiti invece di dire ma sì poveri cari a noi piacciono i partiti no continuano a dire che sono brutti sporchi e cattivi questo mi fa pensare che ne abbiano ancora paura e allora se loro hanno paura c'è ancora un po' di speranza come vedete è una porta stretta però il giorno che diranno beh ma siamo sovranisti anche noi allora abbiamo chiuso può darsi che molto presto arrivi certamente se noi non intercettiamo niente di quello che la società non ci dice ci urla se non intercettiamo niente è chiaro fanno tutto loro poi io non faccio più politica ma mai l'ho fatta ma insomma oggi meno che mai consegno queste parole a chi mi vuole ascoltare e a chi eventualmente voglia fare politica ne faccia l'uso che gli pare grazie 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 grazie